Abbiamo avuto per l'ennesima volta la visita dei soliti ignoti e questa volta si sono accorti e gli ha fatto gola probabilmente i televisori che noi spesso usiamo quasi più per uso didattico che altro. Due televisori a schermo piatto, pochi spiccioli ed alcune bottiglie di liquore, questo il abbottino del furto nella sede di Vivi Alto Tevere a Sansepolcro al quale però si aggiungono anche i danni ingenti agli erredi. Sono episodi che ulteriormente amareggiano e un attimino vanno a incidere sicuramente sul morale di chi quotidianamente si impegna per portare avanti un'attività importante, molto sociale anche e anche molta passione. I ladri sono entrati in azione nella notte tra lunedì e martedì forzando una porta della sede sociale dello stadio Guitoni per poi far razzia di quanto possibile. Abbiamo trovato un buco nella rete esterna e negli spogliatoi laterali ci sono due nuove finestre fatte ancora senza infissi per i lavori, magari possono essere entrate di lì e poi fatto entrare le altre persone perché sicuramente non è un lavoro da uno solo. Totalmente a soquadro gli uffici che si trovano all'interno dello stadio. Hanno divelto alcuni armadi sempre alla ricerca probabilmente di chissà quale tesoro e ovviamente sono stati danni perché poi all'interno dei nostri armadi o dei nostri armadietti negli uffici solitamente ci sono documenti o abbigliamento. Si tratta dell'ennesimo furto subito dalla società sportiva. Sicuramente dovremo prendere dei provvedimenti anche se lo stupore ogni volta che succede una cosa del genere è tanto. Sull'episodio adesso stanno indagando i carabinieri di Sansepolcro.